Salve, mi chiamo Marcello. Sono un impiegato presso il Victorian Electoral Commission. Ad ottobre 2020 si sono tenute le elezioni comunali. Se al VEC non risulta che tu abbia votato, potresti ricevere una lettera chiamata Avviso di apparente mancata partecipazione al voto. Non è una multa. Nella busta troverai un modulo, le istruzioni multidicue e una busta pre-affraccata. Sul modulo ti verrà chiesto se hai votato oppure no. Se hai votato, specifica quando hai inviato il voto. Se non hai votato, devi spiegare la ragione per cui non l'hai fatto. Hai 28 giorni dalla data indicata sul avviso di apparente mancata partecipazione al voto per farci sapere se hai votato o meno. Metti il modulo nella busta pre-affraccata e rinviaccelo il prima possibile. Rispondi. Se non rispondi, potresti ricevere una multa. Se hai bisogno di aiuto per compilare il modulo, chiama il VEC al numero 92090104.